Buonasera da Onda Tg, in primo piano subito la cronaca, ricavi non dicharati al fisco, la Guardia di Finanza di Sumona scopre una maxi evasione, un'evasione milionaria nei guai, un imprenditore. Noi sentiamo tutti i particolari nel nostro servizio. Aveva operato e effettuato operazioni commerciali attraverso cessioni di beni e prestazioni di servizi, conseguendo per gli anni dal 2011 al 2014 ricavi per circa 15 milioni di euro completamente non dichiarati e occultati al fisco, evadendo così totalmente la tassazione diretta e indiretta. La compagnia della Guardia di Finanza di Sumona ha concluso un'attività di polizia tributaria nei confronti di una società di capitali operante in vari settori commerciali che non ha adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa fiscale. Il legale rappresentante è stato denunciato all'autorità giudiziaria per violazioni in materia penale tributaria, per aver omesso la presentazione delle dichiarazioni ai fini del reddito e dell'IVA e per l'occultamento di documentazione fiscale. Pur in presenza di una contabilità frammentare, i finanzieri sono riusciti a ricostruire l'intero ciclo delle operazioni di gestione e delle cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite sul territorio regionale, determinando l'effettivo giro di affari realizzato dall'impresa, nei confronti della quale sono stati costatati ricavi non dichiarati per quasi 15 milioni di euro, un'imposta evase, fini Ires, per quasi 4 milioni di euro, un'IVA dovuta per oltre 3 milioni di euro e un'imposta IRAP per circa 700 mila euro. Torniamo a occuparci dello studente pratolano di 19 anni trovato morto in casa. Sabato scorso la procura della Repubblica di Sulmona ha disposto l'autopsia per far luce sulle cause del decesso. L'esame autoptico sarà eseguito nella giornata di domani dal medico legale Luigi Miccolis, ma noi sentiamo tutto nel servizio. Sarà eseguito nella mattinata di domani l'esame autoptico sul corpo di Antonio Di Pillo, il 19enne pratolano rivenuto cadavere sabato pomeriggio nel letto della sua abitazione. In un primo momento il magistrato aveva riconsegnato il corpo alla famiglia, poi il ripensamento per far luce sulle cause del decesso. Domattina alle ore 10 il procuratore della Repubblica di Sulmona, Giuseppe Belelli, affiderà l'incarico al medico legale Luigi Miccolis che eseguirà l'autopsia subito dopo. Il corpo del 19enne, privo della vita, è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale di Sulmona. I primi accertamenti eseguiti parlano di arresto cardiocircolatorio, ma la magistratura vuole vederci chiaro. Restate a capire in effetti cosa abbia provato il malore, tanto da stroncare una giovane vita. L'esame autoptico servirà anche per accertare eventuali responsabilità di terzi. La notizia della morte improvvisa di Antonio Di Pillo ha gettato nello sconforto l'intera comunità pratolana. Il giovane viene ricordato per il suo carattere solare e gioviale. Tutti gli appuntamenti elettorali per la giornata di oggi sono stati annullati. Gelate tardive si apre uno spiraglio di luce per i risarcimenti, mentre l'agricoltura peligna resta tuttora in ginocchio. Sentiamo i particolari nel nostro servizio. Le imprese agricole che hanno subito i danni delle gelate, brinate e nevicate eccezionali dello scorso aprile potranno essere risarcite. Dopo una richiesta avanzata dalla Commissione Politica Agricole, composta dagli assessori regionali e Ministro della Politica Agricole, è stata approvata un emendamento in quinta Commissione Bilancio della Camera, che include, tra quelle indennizzabili e senza il decreto legislativo 102-2004, tutte le aziende che hanno avuto danni ad aprile, ma anche che hanno produzioni assicurabili che prima erano escluse. Ho sostenuto con forza questa posizione all'interno della Commissione di gara l'assessore regionale e la politica Agricole Dino Pepe. Il Governo nazionale, in particolare il Ministro Martina, hanno dimostrato ancora una volta di essere vicini alle esigenze degli agricoltori. Nei prossimi giorni sarà mia cura rappresentare al Ministro una necessità di incremento del Fondo di Solidarietà Nazionale, che in questo momento non presenta una disponibilità idonea agli eventi che si sono verificati. La Regione provvederà, entro il 30 agosto 2017, a predisporre la declatatoria di eccezionalità degli eventi da presentare al Ministero. A spingere piede sull'acceleratore sono gli agricoltori peligni, che per il terzo anno di fila, fra gelate e calamità, non hanno affatto vita facile. Fatti per il Delino Morandi di Sulmona, la provincia dell'Aquila formalizza l'accordo con il Proveritorato delle Opere Pubbliche, che diventa soggetto attuatore per l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico. Resta sul piede di guerra chi voleva lo scorrimento della graduatoria. Facciamo il punto nel nostro servizio. I giochi sono fatti per il Delino Morandi di Sulmona. La provincia dell'Aquila, proprietaria dello storico edificio di Via d'Andrea, ha formalizzato nei giorni scorsi l'accordo con il Proveritorato delle Opere Pubbliche, che diventa a tutti gli effetti soggetto attuatore per l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico. Una pista che era spuntata qualche mese fa e ha portato Comune e Provincia ad avviare una sorta di dialogo con il Proveritorato. Il comitato degli ex docenti, inizialmente favorevole all'intesa, si è posto subito dopo ritraverso, ritenendo che la convenzione fra provincia e Proveritorato comporta un drastico allungamento dei tempi per il rientro della popolazione scolastica a Sulmona. I professori in pensione e l'imprenditore sulmonese Nicola Di Simone avevano chiesto lo scorrimento della gradatoria per avviare i lavori di adeguamento sismico sulla parte del plesso scolastico non sequestrato. Nessun dietro fronte da parte del Presidente della provincia, Antonio De Crescentis, che ha firmato la convenzione. Abbiamo chiuso l'accordo una decina di giorni fa come da impegni presi, rimarca De Crescentis. Sulla possibilità di scorrere la gradatoria di Simone aveva chiesto parere all'ANA che a Onda DG annunciarono di ricorrere al Tribunale contro la determina della provincia che ha revocato l'incarico provvisorio per l'esecuzione dei lavori a Delino Morandi alla Dittafi. Nel frattempo il comitato degli ex docenti ha ottenuto, grazie al professor Franco D'Amico, un incontro con la Procura della Repubblica. I magistrati non hanno posto alcun freno sul dissequestro dell'immobile e sull'esecuzione dei lavori. La vicenda breve potrebbe tornare sul tavolo della Prefettura dell'Aquila dopo la lettera sperita sempre da D'Amico. Passano mesi e giorni, ma l'attenzione sul futuro della scuola di Via D'Andrea resta alta. E ora torniamo alla protesta di Casa Pound, proprio al Delino Morandi di Sulmona. Tutti i video postati su Facebook sono al baglio della squadra anticrimine del commissariato di Sulmona. La manifestazione non era autorizzata. Indaga la squadra anticrimine del commissariato di Via Sallustio, coordinata dall'ispettore Daniele Lerario, sulla protesta messa in atto sabato scorso da Casa Pound Italia Sulmona, nella sede storica del Delino Morandi. I giovani di Casa Pound sono entrati nella scuola chiusa e sequestrata a metà per richiamare l'attenzione delle istituzioni, degli studenti e dei titolari delle attività commerciali, con un grande striscione, fumogeni e cori dall'altoparlante. Sette minuti in tutto di protesta, ma gli uomini dell'anticrimine sono intervenuti subito dopo per i rilievi di rito. I video della protesta postati sulla rete sociale di Facebook, anche quelli girati all'interno dell'edificio che mostrano scene di degrado assoluto, sono al baglio degli inquirenti. I poliziotti in queste ore stanno risalento all'identità di tutti i manifestanti, ma ancora è chiaro che tipo di provvedimenti saranno presi. I giovani di Casa Pound si dicono tranquilli, convinti che per smuovere le acque serviva una protesta del genere. Sembrerebbe inoltre che gli stessi manifestanti non abbiano trovato difficoltà ad accedere nell'edificio, visto che alcuni dei cancelli sarebbero aperti. L'accesso è venuto dalla parte non sottoposta a sequestro, ma comunque chiusa dal decreto dell'allora presidente della provincia dell'Aquila, Antonio del Corbo, dopo la perizia di inalcibilità. Nelle prossime ore si conosceranno le intenzioni degli uomini dell'anticrimine. La manifestazione di protesta non è stata autorizzata dalle forze dell'ordine. Questa al momento potrebbe essere l'unica accusa. La manifestazione di interesse per il potenziamento dell'ufficio sisma di Palazzo San Francesco potrebbe essere illegittima. L'ex consigliere comunale Gaetano Pagone avverte il sindaco di Sulmona, Anna Maria Cassini. Noi sentiamo tutto nel nostro servizio. Un consiglio d'ex amministratore, ma anche una sorta di avvertimento, quello che parte da Gaetano Pagone, già consigliere di Forza Italia, al sindaco di Sulmona, Anna Maria Cassini, a proposito dell'avviso per la manifestazione di interesse per il potenziamento dell'ufficio sisma pubblicato nei giorni scorsi. Pagone fa notare che nel bando non è chiesto ai professionisti che intendono rispondere all'avviso di indicare la durata, le modalità, il luogo di svolgimento dell'attività richiesta e l'indispensabile individuazione del rapporto tra prestazione e onorario, con tutte le implicazioni adesso legate. Si vorrebbe annullare l'avviso provvedendo a una rielaborazione dello stesso. A questo proposito mi permetto di suggerirle, scrive Pagone, nella missiva indirizzata al sindaco Casini, che sia il precedente avviso che una eventuale sua rielaborazione potrebbe non avere crismi della legittimità. Infatti, se è vero come è vero che la scelta di pubblicato avviso manifestare interesse fonda le sue radici nell'espressa considerazione che l'elenco dei professionisti in durazione di questo ente è stato formato in assenza di detto vingolo di incompatibilità, quello cioè che tali incarichi possono risultare incompatibili con eventuali incarichi di progettazione e direzione collaudo assunti nell'ambito della ricostruzione post-sisma, non si può e non si deve escludere la possibilità di invitare con regolare procedure di affidamento attingendo dall'elenco dei professionisti di cui il Comune è dotato per aver aggiornato nei primi mesi dell'anno 2015. Pagone chiude con un'esortazione. Le consiglio se realmente vuol dare una risposta alle aspettative dei diversi operatori e degli stessi cittadini che ancora non riescono a mettere in sicurezza i loro immobili di avviare un regolare conferimento di incarico sulla base dell'elenco a disposizione dell'amministrazione, conclude l'ex consigliere. E proprio sul fronte della ricostruzione post-sisma l'ufficio di Goriano Sicoli resta in difficoltà. Un incontro con il sottosegretario, con delega alla ricostruzione Paola De Micheli, è stato richiesto dall'assessore regionale dell'area interna Andrea Gerosolimo per trovare una soluzione legata alla mancanza di risorse economiche per la gestione ordinaria dell'ufficio territoriale della ricostruzione di Goriano Sicoli. Proprio questa mattina, spiega l'assessore Gerosolimo, il primo cittadino di Goriano Sicoli, mi ha rappresentato la mancanza di fondi governativi per il pagamento del personale dell'ufficio per la ricostruzione, competente per le istruttorie delle istanze provenienti dai comuni fuori cratere sismico. Le competenze dell'ufficio di Goriano Sicoli, aggiunge Gerosolimo, danno la misura dell'importanza del lavoro che sul territorio svolge tale ufficio. La mancanza di fondi costringerebbe, suo malgrado, il sindaco di Goriano a chiudere l'ufficio con il blocco di tutta l'attività amministrativa della ricostruzione, da qui la decisione dell'assessore all'area interna di chiedere un incontro urgente con il sottosegretario. Il parco fluviale a gusto d'olio di Sulmona da assegnare scatta la fase sperimentale proprio in estate per la gestione del pomone verde della città, si pensa a una cordata di associazioni. Sentiamo nei particolari. Si va verso un affidamento temporaneo del parco fluviale a gusto d'olio di Sulmona, almeno per la stagione estiva, che ormai è alle porte. Lo annuncia a Onda DG l'assessore comunale con delega all'ambiente Alessandra Vella che del via la fase sperimentale che potrebbe portare, si spera a stretto giro, all'affidamento dei polmone verde della città, a una o più associazioni per qualche mese. Ci stiamo già lavorando da tempo ed ora contiamo di completare in tempi brevi tutte le procedure per sperimentare questa gestione in estate, che è il periodo dell'anno più nevralgico, per il parco fluviale, annuncia Vella. Dopo la conclusione delle operazioni di accatastamento e l'esecuzione di alcuni lavori, ora si può procedere all'affidamento del bene, ma la formula è ancora da individuare. La condotta velenia di Slow Food, che ieri ha riproposto con successo il picnic del gusto, suggerisce di optare per una gestione condivisa dell'aria verde, per una cordata di associazioni. Unati, un'associazione temporanea di imprese, in questo caso di associazioni, che cogestiscono, organizzano insieme e gestiscono un calendario di eventi in questo parco. Suggerisce di optare per una gestione condivisa dell'aria verde, una cordata di associazioni. Anche questa proposta la stiamo valutando, ma certo è che per l'estate la fase sperimentale sarà attuata a Sicuravella, prima di procedere all'affidamento vero e proprio. Tempo per riflettere, ce n'è davvero poco, se si considera che troppo spesso il parco d'olio rimbalza gli onori della cronaca per episodi di degrado e atti vandalici. Gli ultimi eventi però dimostrano che quando si lavora in sinergia e insieme, il pomone verde della città torna a vivere. È il caso del picnic di Slow Food, ma anche della festa del liceo classico. E ora ci spostiamo a Prato La Peligna, trasloco definitivamente completato. Da oggi aprono gli uffici nel nuovo municipio. Vediamo tutto nel nostro servizio. Trasloco completato per il municipio di Prato La Peligna. Da oggi si comincia a lavorare nella nuova sede, ristrutturata con tanto di lavori di adeguamento sismico. Dopo il taglio del nastro che risale lo scorso 22 aprile, gli uffici comunali da oggi hanno ripreso il servizio nella serie storica del comune dopo il trasferimento durato per circa un anno negli uffici dell'ex giudice di Pace. Gli interventi di adeguamento sulla serie municipale sono costati 100.000 euro alle casse comunali, un milione di euro invece al contributo economico arrivato dalla regione Abruzzo. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta di trasporti di Sulmona dell'architetto Antonio Angelone, che in tempi record è riuscito a restituire alla comunità pratolana lo storico municipio. L'innovazione energetica e il completo adeguamento sismico sono gli elementi che rendono l'edificio più sicuro, moderno e meno costoso. L'edificio sarà anche punto di riferimento per la popolazione in caso di emergenza. Intanto si entra nella fase clou della campagna elettorale a Prato-La Peligna, al Via I Comizi, mercoledì prossimo, 31 maggio, in piazza Brigata Maiella, presso la billetta comunale di Prato-La Peligna, alle ore 21 si terrà il comizio di apertura della candidata sindaco Antonella Di Nino e dei candidati consiglieri della lista Prato-La Bellissima. Apriamo con slancio e convinzione questa fase della campagna elettorale, sottolinea Antonella Di Nino, forti della novità delle nostre proposte e della consapevolezza di poterle tradurre, infatti nel segno della discontinuità con chi ci ha preceduto. Lo faremo con una squadra qualificata che garanzia di un cambio di passo reale nell'azione amministrativa per la nostra città verso la realizzazione di una Pratola bellissima. Intanto il candidato sindaco di futuro comune, Gaetano Di Cioccio, lancia la porta della Conca Peligna che sarà proprio il casello autostradale. Sentiamo nel nostro servizio. Infopoint è un tedesco espositivo, capace di intercettare e indirizzare il flusso turistico che proviene dal casello autostradale e di fare da volano lo sviluppo del territorio incentivando e ravvivando lo spirito di intraprendenza del cittadino pratolano capace di inventare e creare le premesse per lo sviluppo occupazionale. Un punto strategicamente importante è quello all'uscita del casello autostradale di Pratola che diventerà con il coinvolgimento delle istituzioni di attività economiche private, nonché associazioni ai cittadini, un elemento di rilancio, sviluppo e informazione delle attrattive turistiche e denogastronomiche quali ad esempio Montepulciano, l'aglio, i carciofi, l'olio, le pizzelle e tante altre ghiottonerie che Pratola e tutta la Conca Peligna offre. Il progetto che oggi ci piace chiamare Porta della Conca Peligna, afferma il candidato sindaco Chetano Di Cioccio, sarà una struttura all'avanguardia realizzata nei pressi dell'uscita del casello A25 ed è la risposta con l'obiettivo di offrire a viaggiatore in transito sulla letto autostradale una serie di spunti per scoprire sicuramente Pratola ma anche il territorio limitrofo e l'infrastruttura. La suggestione delle immagini così come quelle precedentemente presentate e i precedenti progetti rende bene l'idea di quello che vuole ottenere il nostro progetto, la promozione del territorio attraverso una vetrina che metterebbe in bella mostra i prodotti enogastronomici della terra ma anche tutte le ricchezze monumentali e naturali che la nostra Conca offre. Las Vegas e Scanno, gemellaggio in vista tra le due realtà per promuovere il territorio degli Stati Uniti. Marco Malvestuto nel servizio. Promuovere le peculiarità di Scanno e della zona del Parco Nazionale d'Abruzzo. Questo l'obiettivo di Scanno Fine Food and Lake Experience, iniziativa ideata e curata da Antonio D'Apote, importatore e distributore alimentare di prodotti tipici italiani con sede in Chicago e delle aziende scannesi di Masso e Fior di Montagna di Pasquale Notarmosi. L'evento nasce proprio per dare la possibilità a queste aziende medio-piccole che non hanno la possibilità di affacciarsi nel mercato statunitense di proporsi e di far degustare i loro prodotti oltre alla rappresentazione e alla dimostrazione del territorio, delle attività connesse al turismo del territorio, all'enogastronomia e a tutte quelle attività connesse a valorizzare oltre a prodotto la regione Abruzzo. Lo scorso 6 maggio nella Roma Daily Restaurant and Catering, uno dei ristoranti italiani più famosi di Las Vegas, di proprietà di Fausto Presutti, originario di Sulmona, si è dato il via al primo evento dell'iniziativa che ha visto prodotti come pandell'orso, ferraterre di Scanno, confetture biologiche, al centro di apprezzamenti dei numerosi clienti del locale. L'iniziativa di promozione del territorio toccherà oltre a Las Vegas, Chicago, New York, Los Angeles, Milwaukee, Phoenix, St. Louis, Indianapolis, Toronto e Montreal. Agli eventi parteciperanno oltre alle comunità italo-americane i consoli italiani delle varie metropoli, le associazioni abruzzesi nel mondo e abruzzesi in America. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Scanno e dal Parco Nazionale d'Abruzzo, ha come punto focale la proposta di gemellaggio tra il lago di Scanno e l'Aknid, un lago a confine tra Arizona e Nevada dove vengono praticati sport, seminari, escursioni, proprio come nel bacino scannese. Questo gemellaggio, affinché pure i gruppi turistici possano visitare il Parco Nazionale dell'Abruzzo e in particolare il lago di Scanno. Parteciperà il console onorario di Las Vegas, l'avvocato gentile, che è favorevole alle iniziative. Abbiamo preso i primi contatti per inoltare la pratica di gemellaggio. Via libera del Consiglio Comunale di Sulmuna che si è chiuso proprio qualche istante fa. La riqualificazione del mercato di piazza Garibaldi. sono 105 ora i posteggi a disposizione degli ambulanti dello storico mercato. Si astiene il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Elisabetta Bianchi approvato a maggioranza anche il rendiconto di gestione. Noi abbiamo intervistato l'assessore comunale con delega al commercio Cristia La Civita. Alvia la riqualificazione del mercato ambulante di piazza Garibaldi. Assessore Cristia La Civita oggi è stato compiuto un passo importante dal Consiglio Comunale come avete ribadito frutto di una concertazione con le associazioni di categoria. Sì, finalmente arriva un provvedimento che si aspettava da anni e devo dire che è un provvedimento che è nato comunque con le vecchie amministrazioni che abbiamo ripreso che abbiamo voluto con forza e che siamo riusciti a portare a termine perché lo abbiamo fatto concertando con le associazioni di categoria ma anche direttamente con coloro che operano all'interno di piazza Garibaldi e quindi degli ambulanti e degli operatori del mercato. È un successo questo perché si evita alcuni fenomeni come quello per esempio degli spuntisti che avveniva ormai a sul mondo in maniera esagerata se consideriamo che c'erano 161 postazioni quindi 161 posti da poter utilizzare a fronte di una media generale circa 104 operatori fissi che operano all'interno del mercato. In questo modo noi andiamo non solo a riqualificare siamo intervenuti in termini di sicurezza quindi con il nostro RSPP abbiamo fatto chiaramente vedere le planimetrie quindi oggi il mercato è sicuramente più sicuro è più accessibile perché ha degli spazi più ampi corridoi più ampi quindi anche per l'accesso è diversamente abili e possono passare le ambulanze anche all'interno dell'anello nel momento in cui si svolge il mercato e quindi abbiamo considerato tutte queste fattispecie messo su questo documento condiviso e oggi finalmente abbiamo questo risultato che aspettavano da anni. Domenica da Medioevo a Entro d'Acqua tra folla, costumi e buona cucina riuscita l'iniziativa che rientra nell'Open Day Summer vediamo tutto nel nostro servizio Dei costumi e prodotti tipici serviti a tavola tutto parlava di Medioevo ieri a Entro d'Acqua un tuffo nella storia in una domenica baciata alla sole un intero borgo in festa per riprendere il motto della manifestazione per uno degli eventi inseriti nell'Open Day Summer L'Abruzzo si gioca la carta del turismo e della cultura per uscire dall'inverno del maltempo delle valanche e delle tragedie Entro d'Acqua risponde con successo all'iniziativa grazie allo scenario del borgo uno dei più belli d'Italia e al calore della gente che in piazza non è mancata lo dimostra la grande tavolata bandita dall'associazione culturale Futura un mix di artigianato costumi dell'epoca medievale cucina a base di sani e fagioli e cipolla ma la parola d'ordine resta aggregazione very beautiful mi piace molto Entro d'Acqua complimenti a Entro d'Acqua e chi ha organizzato tutto sono quelle manifestazioni simpatiche che servono a che la gente dialoghi dialoghi oggi ci catapultiamo tutti in un'atmosfera diversa da quella di tutti i giorni la gente c'è come al solito quando organizziamo noi di Entro d'Acqua la gente viene è una bella manifestazione sempre la futura che ha organizzato sicuramente un grande successo ed è un'ottima vetrina per il nostro paese torniamo a Sulmona squillo di chiarine rullo di tampuri la cordesca apre la stagione cavaleresca Domenico Verlingeri giovedì e venerdì prossimi primo e due giugno torna la cordesca la giostra cavaleresca dei bambini quest'anno la manifestazione si inserisce nel cartellone di Abruzzo Open Day Summer 2017 promosso dalla DMC Terre d'Amore si comincerà alle 16 di giovedì primo giugno con il corteo storico che da piazza plebiscito nei pressi della chiesa di Santa Maria della Tomba attraverserà corso video per arrivare allo stadio Pallozzi prima delle sfide sarà presentato il palio della cordesca subito dopo comincerà la gara con i piccoli portacolori dei borghi e sestieri impegnati alla conquista degli anelli novità di quest'anno è che saranno quattro i giovani speaker che affiancheranno quelli ufficiali della giostra Fiorenza Quadraro e Claudio Natale nel commentare i momenti salienti della manifestazione sono Susanna Castelli di 17 anni Michele Reblasis di 21 anni Rosario Ciacchi di 18 anni e Lorenzo Pagliaro di 17 anni vincitori del concorso una voce per la cordesca ideato da Angelo Merola la voce storica della giostra cavalleresca prematuramente scomparso nei mesi scorsi venerdì 2 giugno seconda giornata di cordesca l'appuntamento con il corteo composto da 600 figuranti in abiti rinascimentali e sempre alle 16 in piazza Plebiscito dalle 17.30 inizieranno le finali del torneo sul terreno dello stadio Pallozzi appena concluse le gare si svolgerà la cerimonia di premiazione della squadra vincitrice del Palio una manifestazione che ogni anno cresce sempre più e che quest'anno è stata inserita nel cartellone Open Day Abruzzo un attestato del successo che la cordesca ha guadagnato in 15 anni di vita ha sottolineato con soddisfazione il commissario reggente dell'associazione giostra cavalleresca Maurizio Antonini un gol per l'inclusione la Virtus Pratola e Nero Stellati si sfidano in una gara a colpi di beneficenza Giulio Misticone insieme si fa gol questo è il nome dell'iniziativa organizzata dall'associazione Anfas di Sulmona in collaborazione con la società sportiva Virtus Pratola e con la partecipazione anche dell'USD Nero Stellati 1910 i bambini dell'Anfas Onlus Sulmona davanti a un pubblico numeroso hanno partecipato ai giochi sportivi insieme ai parietà delle scuole calcio di Nero Stellati e Virtus Pratola a seguire si è disputata anche una gara amichevole tra le prime squadre dei Nero Stellati e della Virtus Pratola con il successo della squadra di Matteo Di Marzio andata al riposo avanti i due reti grazie alle segnature di Isotti e Rossi in apertura di ripresa Fabrizio Vitone ha accorciato le distanze per la Virtus prima del terzo gol Nero Stellato griffato Palombizio per il 3 a 1 finale in favore la squadra neopromossa in Serie D amichevole con gli amici Nero Stellati quest'anno per noi e per loro è stata una bellissima annata è stato semplicemente un qualcosa in più perché alla base di tutta la cosa più importante per noi oggi era far giocare divertirsi questi bambini tutti insieme siamo orgogliosi di questa iniziativa perché comunque sia questi ragazzi meritano questo siamo contenti di essere stati coinvolti dalla Virtus in questa bellissima manifestazione un lavoro quello dell'ANFAS portato avanti su tutto il territorio nazionale attraverso i 3.000 operatori specializzati che insieme ai circa 2.000 volontari e collaboratori offrono servizi e supporto alle circa 30.000 persone con disabilità intellettivo-relazionali e ai loro familiari come appunto spiegato da Emanuela Pasquali presidente dell'ANFAS di Sulmona la cosa più bella è stata proprio quella dell'inclusione vedere i bambini delle squadre di calcio insieme ai nostri ragazzi partecipare alle attività di gioco che sono state proposte attività di gioco pure semplici fino ad arrivare alla produzione insieme di una maglia schizziamo di quelle del nostro marchio relativo l'Olimpia Cedas Sulmona protagonista la festa regionale delle scuole calcio d'elite svoltasi lo scorso sabato allo stadio Guido Biondi di Lanciano la società sulmonese fondata nel 1971 è stata premiata dai vertici regionali della FIGC insieme ad altri club abruzzesi in totale 12 riconosciuti scuole calcio d'elite per la stagione sportiva 2016-2017 grande soddisfazione da parte della dirigenza dell'Olimpia Cedas in quanto risultato rappresenta il frutto del lavoro messo in atto da molti anni per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività di base intanto il Sulmona Rugby scalda i motori per due appuntamenti di rilievo il primo sabato 3 giugno quando si svolgerà la notte ovale presso il campo del rugby in località incoronata alle 15 il torneo del mini rugby alle 17 Rugby League la prima giornata di campionato italiano alle 19 torneo Old e poi alle 21 tutti a tifare Juventus con la proiezione su maxischermo proprio della finale di Champions sabato 10 giugno come abbiamo già visto dalle 15 presso il campo del rugby località sempre incoronata ci sarà il campionato italiano arbitri di rugby e tutti gli arbitri d'Italia saranno proprio nel capolungo Peligno ed ora come ogni sera arriviamo alla buona notizia del giorno Ferdinale prendi quel sacchettino e non c'è lì e grazie tu allunghi la mano e fatti sotto già fatto come sconviggere isolamento emerginazione e solitudine semplice la ricetta realizzata dal centro sociale anziani di Sulmona e dall'associazione culturale Arianna propone un mix di allegria improvvisazione e impegno nel mondo dello spettacolo si è chiusa si è chiusa con un tributio di applausi la commedia sempre si è clonato andate in scena ieri al cinema pacifico di Sulmona che ha visto gli anziani del centro sociale confermarsi validi attori sul palcoscenico c'è chi come Michele Amicucci si è lanciato in questa nuova avventura a ben 81 anni torna la voglia di vivere di sentirsi giovani e questa è la magia del teatro a me piace tanto fare teatro peccato che ho una bella età però finché potrò farò teatro per il pubblico sulmonese sono state due ore e mezza di puro divertimento ma che piacere riconoscerti mamma mia ma lo sapete che non li avevo riconosciuti e manco io in televisioni sembri diverso nata persona però il grande successo che premia tutti gli sforzi organizzativi è stato rimarcato a fine spettacolo dal presidente del centro anziani Giacomo Spinosa e dalla presidente dell'Arianna Marisa Zurlo entrambi soddisfatti per la performance teatrale dei diversamente giovani non avrei scommesso neanche un centesimo oggi posso dire che diciamo di essere veramente grati a questi amici e sono pienamente soddisfatto di questi risultati sentirsi amici e non solo sentirsi vicini ad altre persone che hanno la stessa passione questo li porta ad essere più soli prima di chiudere vi ricordo alle 22 l'appuntamento settimanale con la rubrica vivere la vita è davvero tutto per questa edizione ondorici torna domani grazie per essere rimasti con noi a tutti voi lascio la buona serata arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.